Cercare alleanze, misurare le parole, puntare sui giovani e diffondere la cultura della tolleranza sono i suggerimenti che Monsignor Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano e Scalea, ha appuntato in una lettera rivolta ai candidati delle prossime elezioni amministrative. In questo momento la vostra preoccupazione è quella della richiesta del consenso, evidenzia. Io credo che il nostro modo di fare politica inizi proprio da qui. Se vogliamo essere seri non possiamo pensare di chiedere il consenso sulla base di favori elargiti o sulla base di promesse da marinaio. Cerchiamo, dice, alleanze perché possa crescere la cultura dei diritti, dei servizi e perché il nostro territorio possa essere caratterizzato non solo dalla bellezza dei luoghi ma dalla nobiltà dei sentimenti dei credenti che si impegnano in politica perché sentano la passione per il proprio paese. Per il Vescovo è importante che i candidati siano in grado di misurare le parole scegliendo quelle giuste, che non offendono, che suonano come rispetto degli uni per gli altri. Ricordatevi, il monito di rega, che la campagna elettorale dura appena un mese subito dopo bisognerà tornare a vivere insieme e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. È urgente e determinante camminare nella stessa direzione e insieme continua. Dobbiamo poter fare fronte comune perché i martiri della giustizia non nascono solo per mano dei malviventi ma crescono prima nell'isolamento e nel silenzio dei buoni. Da qui la fondamentale cultura della tolleranza perché chi si candida a servire il paese e a rappresentarlo deve recuperare il coraggio e tenere alta la soglia della vigilanza per diffondere la cultura della legalità e della giustizia. Infine i giovani che dimostrano di avere coraggio da vendere a cui va affidato il nostro futuro perché sanno essere generosi e possiedono una genuinità della vita che molti adulti hanno smarrito.